Il ritorno in Serie C del Campobasso avverrà sul campo domenica 11 agosto, quando è in programma il primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Sarà impegnata sicuramente anche la squadra rosso-blu, che è una neopromossa come le altre provenienti dalla Serie D. Secondo turno previsto la settimana successiva, mentre il 25 alvia il campionato, che andrà avanti fino al 27 aprile con tre turni infrasettimanali da determinare e la sosta natalizia del 29 dicembre. Per quanto riguarda il girone, entro fine mese saranno ufficializzati gli organici e i lupi saranno inseriti, salvo sorprese, nel raggruppamento B, assieme alle varie Arezzo, Ascoli, Perugia, Pescara, Spal, Ternana. Tornando al trionfo contro il Trapani, è grande la gioia di mister Piccirilli. Meglio di così non potevamo concludere, super soddisfatti tutti, super soddisfatto io, grande prestazione, soprattutto il primo tempo. L'abbiamo giocata così come l'avevamo preparata, soprattutto il primo tempo. Il secondo tempo un po' meno, abbiamo concesso qualcosina in più, però poi tutto sommato l'abbiamo chiusa con il quinto gol e siamo super contenti. Siamo partiti forti, l'avevamo impostata proprio così, abbiamo pensato di partire forte, alla fine ci siamo riusciti. Abbiamo sfruttato fondamentalmente quasi tutte le palle gol che abbiamo avuto, perché su sei palle gol, se non mi sbaglio, quattro gol e due pali, quindi bene così.